che oggi ci sia spiegato il messaggio di Colle Valenza perché mi stavo dicendo ma come è possibile venire a Colle Valenza e nessuno ci spiega il messaggio di Colle Valenza e così venite tutti per favore perché è proprio importante se il Signore ci ha portati qui è perché ha da parlarci qui e noi non dobbiamo andare a casa senza aver colto il messaggio e leggete molto nei tempi liberi ma pregate molto di Madre Speranza e quando passate vicino all'acqua bevete l'acqua sapete che qui non c'era l'acqua e Madre Speranza quando è venuta ha detto no no qui c'è l'acqua e l'impresa dopo un po' ha detto ma non c'è ma come non c'è Gesù mi ha detto che c'è avanti scavate allora hanno scavato di più è arrivata una falda e poi hanno scavato di più è arrivata la seconda falda e poi hanno scavato di più la terza falda e acqua in sovrabbondanza fino a riempire le piscine per i malati e Madre Speranza diceva che quest'acqua guarisce il cancro per favore se avete il cancro andate a bere io tutti i momenti che passo davanti all'acqua vado a bere per guarire dal cancro per favore adesso in preparazione alla confessione fate questo gesto di semplice tutto l'acqua che ci inquie è tutta l'acqua della fede di Madre Speranza ci sono le fontane apposta perché si beva e si guarisca dal cancro e dalle malattie disperate e lavate lavate dentro l'acqua il vostro orgoglio così vi preparate bene alla confessione bene allora continuiamo la nostra cara preghiera del cuore qualcuno ha capito che è faticosa meno male è segno che l'ha provata è faticosa però avete letto forse sul primo de Pliant quei pensieri di Guglielmo di Saint-Hierry è un padre del primo secolo scusate è il padre del 1100 che forse fu il primo mistico che in occidente parlò della preghiera del cuore e insegnò la preghiera del cuore un discepolo di San Bernardo lui era benedettino ma voleva farsi cistercense e Bernardo diceva no, no, no e alla fine il no era perché lui doveva sanare i benedettini ma alla fine si stufò e si fece cistercense divenne abate di Saint-Hierry e i cistercensi lo venerano come beato anche se ha disubbidito a San Bernardo facendosi cistercense ma fu il primo che impravide il ruolo dell'amore nella preghiera dunque un principio di Guglielmo di Saint-Hierry da tenere molto presente questo principio chi ama non si stanca una mamma è capace vicino al letto del bambino a passare anche un mese e non sente la fatica perché? perché la mamma ama voi quando amate fate qualunque cosa chi ama non si stanca se la preghiera del cuore vi stanca è perché dovete dirvelo io non amo ancora io non amo ancora il mio amore è troppo debole e più crescete nell'amore e più vi succederà che la preghiera vi diventa sempre più bella o almeno dovete arrivare a questa meta non poterne più fare a meno arrivare a questa meta quando sentite che dovete rifare ricostruire tutto nella vostra preghiera arrivare sempre lì devo tornare alla preghiera del cuore devo tuffarmi nella preghiera del cuore devo ricostruirmi nella preghiera del cuore e poi insegnarla a tutti la preghiera del cuore ve lo dirò ancora tante volte che se il Signore vi fa la grazia della preghiera del cuore voi avete un obbligo gravissimo dovete trasmettere la preghiera del cuore a tutti a tutti nei biglietti ho ancora visto qualche biglietto un po' disorientato che dice ma qui è un metodo un metodo è un fico secco è l'ubbidienza a Gesù Cristo che insegna la preghiera come amore è un rispetto a Gesù Cristo le più grandi preghiere di Gesù erano due preghiere del cuore il Padre Nostro e lo Shemma le due grandi preghiere di Gesù sono quelle è il capolavoro se mi chiedete quando Gesù ha insegnato la preghiera del cuore ma nel momento più grande della sua vita al Gezzemani il Gezzemani è la preghiera del cuore Padre non la mia ma la tua volontà sia fatta quella è il culmine della preghiera del cuore e se volete usare solo quella formula quella è la formula la perfetta della preghiera del cuore padre non la mia ma la tua volontà e dirlo nei momenti sanguinanti quella è la preghiera del cuore l'ha fatta e l'ha fatta fare lì c'è la scena famosa rimanete un po' qui vicino a me mentre io vado a pregare notate che non chiede neppur la preghiera solo una presenza amorosa accanto a lui chiede la preghiera del cuore e loro dormono come noi come noi è lì la tragedia Gesù chiede la preghiera del cuore nel momento più tragico per lui e loro non sono capaci non erano allenati non erano mai venuti con le valenza a fare il corso sulla preghiera del cuore ma bisogna bisogna che vi rendiate conto che non è un metodo è ubbidire a Gesù Gesù nel Padre nostro insegno la preghiera come amore avanti la tua preghiera è amore sì o no e notate bene che dovete far diventare preghiera del cuore la messa dovete far diventare preghiera del cuore il breviario dovete far diventare preghiera del cuore il rosario cioè punti profondi in cui voi vi fate assolutamente sinceri di fronte a Dio di fronte alla Madonna e vi lasciate guardare dentro e incrociate gli occhi col Signore con la Madonna voi qui a Firenze avete un grande maestro di preghiera guai a voi se non lo conoscete Divo Barsotti Divo Barsotti è proprio un profeta della preghiera un giorno ho sentito da Divo Barsotti questa battuta Dio è una realtà personale perciò esige un rapporto personale tu per tu perciò noi non abbiamo pregato se non quando abbiamo guardato negli occhi Dio e ci siamo lasciati guardare negli occhi se non c'è stato il contatto personale non sei entrato nella preghiera e adesso voi confrontatelo con quei breviari bla 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 e la messa la garibaldina confrontatelo con questo stile che sovente i preti hanno e poi capite subito come è necessaria la rivoluzione della preghiera non ho pregato se non ho guardato Dio negli occhi e non mi sono lasciato guardare negli occhi se non sono entrato in un rapporto personale e la preghiera del cuore vuol fare solo questo mettervi in un rapporto personale dunque stamattina devo presentarvi la seconda palestra della preghiera del cuore la prima la chiamavamo così imparare ad amare imparare ad amare e dovete esercitarvi molto in questo imparare ad amare finché diventa per voi una legge cioè finché non potete più scindere preghiera e amore amore e preghiera quando pregate che possiate interrogarvi sempre dicendo ho amato o mi sono gingillato ho amato o mi sono riempito la bocca di parole ho amato o ho menato il camperlaia esercitarvi nell'amore prima tappa della preghiera del cuore imparare ad amare adesso la seconda tappa siamo alla seconda palestra della preghiera del cuore naturalmente non dovete intendermi alla lettera questo linguaggio è da prendere non alla lettera più voi amate più voi sentite il bisogno di concentrare la vostra attenzione sull'amore di Dio e allora e allora siamo la seconda palestra della preghiera del cuore io la chiamerei così lasciarsi amare imparare a lasciarsi amare Gesù aveva proprio detto a chi mi ama io mi rivelerò se tu ti eserciti nella preghiera del cuore a un certo momento senti il bisogno di fermarti solo più sull'amore del Signore per te siamo al messaggio di Collevale a chi mi ama io mi rivelerò più la preghiera diventa amore più si aprono gli orizzonti dell'amore di Dio verso di noi e più diventa urgente lasciarci invadere da questo amore può succedere dunque nel cammino della preghiera del cuore che sorga potente avete il bisogno di concentrare tutta l'attenzione su Dio che ama che ci ama su Dio e sul suo amore lo riteniamo questo un passaggio di maturazione nella preghiera del cuore quando avviene quando vuole il Signore in principio normalmente avete i grovigli dentro per cui sentite il bisogno di purificarvi purificarvi amare a fatti dicevamo convertirvi poi arriva il momento in cui lui dice adesso basta adesso non crociarti più di te guarda solo più a me guarda quanto ti amo ecco siamo al secondo passaggio della preghiera del cuore può avvenire in brevissimo tempo e può avvenire dopo moltissimo tempo dovete andare dietro lo Spirito come lo Spirito vi porta nei primi tempi si sente vivo il bisogno sotto il lavoro della grazia di essere molto concreti nell'amore cioè si accentua la nostra responsabilità di conversione poi invece l'attenzione è focalizzata tutta sull'amore di Dio notate che anche qui è sempre richiamo la conversione perché se voi aprite gli occhi sull'amore di Dio voi vi convertite voi non siete convertiti noi non siamo convertiti finché non abbiamo capito fino in fondo quando il Signore ci ama quindi siamo sulla stessa linea la conversione l'amore solo che la partenza è un'altra lasciarsi amare se è difficile amare tutti dovrebbero essere capaci a lasciarsi amare io devo ragionare così lo trovo difficile amare ma almeno devo imparare almeno a lasciarmi amare tutti dovrebbero essere capaci ma in realtà non è così essere fulminati dall'amore di Dio è una grazia dello Spirito capire quanto il Signore ci ama ma proprio una grazia che il Signore fa a un certo momento del nostro cammino ed esige certi passi nostri verso di Lui poi Lui ci viene incontro e ci fa questa grazia ci fa capire a chi mi ama io mi rivelerò e questa parola di Gesù non cade è molto importante sempre all'inizio abbandonarsi una umile fervorosa implorazione dello Spirito perché ci insegna ad amare io adesso non faccio mai l'adorazione senza un quarto d'ora intero a chiedere allo Spirito di imparare ad amare e di imparare a pregare imparare a pregare cioè imparare ad amare dunque che cos'è lasciarci amare? non so se riuscirò a rispondere io rispondere è così lasciarsi amare è secondo me essere totalmente presenti a Dio e totalmente disponibili a Lui quando io voglio esercitarmi nel lasciarmi amare io devo almeno essere ben presente a questo amore ed essere totalmente disponibile alle esigenze di questo amore voi capite subito che è un passo avanti è un passo avanti nella profondità lasciarsi amare e mettere al centro Dio e la sua volontà abbandonandoci completamente a Lui padre de Foucault la esprimeva pregando fa di me ciò che ti piace carta bianca signore fa di me ciò che ti piace sono pronto a tutto accetto tutto purché la tua volontà si compie in me io per molti anni non sono riuscito a dire questa preghiera e mi fa una pena vedere in certi gruppi giovanili che si dice la preghiera dell'abbandono di padre Foucault come bere un bicchiere d'acqua ma giovanotti la preghiera di padre Foucault si dice dopo che uno ha fatto 40 giorni di deserto e ha spezzato tutte le resistenze a Dio se no ha un controsenso come fate a dire questo sono pronto a tutto accetto tutto purché la tua volontà si compie in me non desidero niente altro a mio Dio ma quando potete dire una cosa simile se non avete fatto mille spezzamenti interiori ed è per me un'esigenza d'amore il darmi rimettermi nelle tue mani senza misura qualche volta è bello dire allo Spirito Santo in voi Spirito Santo per favore dillo tu perché io non ho il coraggio allora lui lo dice e lo dice per voi e così vi lasciate amare questo è lasciarsi amare abbandonarsi a Dio questo è lasciarsi amare fa cosa vuoi lasciarsi amare allora è scegliere in tutto e per tutto la volontà di Dio lasciarsi amare e focalizzare il proprio cuore sulla preghiera sanguinante del Gezzemani padre non la mia ma la tua volontà sia fatta lasciarsi amare allora è la decisione di diventare anche nelle piccole cose la gioia di Dio che io sia la tua gioia o Signore e ho trovato una furbizia ho trovato una soluzione quando mi era tanto difficile dire Signore accetto tutto anche il cancro fa tutto quel che vuoi dentro di me e poi stavo senza fiato poi ho trovato una soluzione la la continuazione di questa preghiera dire così al Signore Signore accetto tutto fa di me tutto quello che vuoi in tutte le mie situazioni pur che io diventi la tua gioia ecco per me è stato l'orizzonte che si è aperto provate a farlo vedrete come vi dà forza accettare in pieno la volontà di Dio pur che Signore io diventi la tua gioia io ti dia le più grandi consolazioni che ti può dare una creatura provate vedrete che questo vi dà coraggio a fare qualunque offerta al Signore e siete in pieno nel lasciarvi amare adesso devo toccare un argomento molto importante le distrazioni sono il tormento della preghiera del cuore qualcuno l'ha già capito e si meravigliava oh poveretto se ti incammini nella preghiera del cuore devi diventare un esperto in distrazione un esperto nella lotta le distrazioni sono il tormento della preghiera del cuore le distrazioni se anche la preghiera vocale è sottoposta alla prova delle distrazioni la preghiera del cuore essendo tutta preghiera di silenzio di concentrazione lo è molto di più a poco a poco però anche le distrazioni possono portare un loro coefficiente specifico alla preghiera del cuore basta cambiare tattica quasi sempre a riguardo delle distrazioni noi ci comportiamo così quando abbiamo buona volontà arriva la distrazione caccia qui arriva di là caccia di là la lotta le mosche via di qua via di là ma questo è snervante e questo è persino illogico è snervante e illogico non dovete lottare così invece alla distrazione rispondete con calma invece di lottare così con le mosche acciuffate la distrazione mettetela davanti a voi spaccatela in mezzo dentro ci trovate una luce per la vostra conoscenza ogni distrazione porta sempre il contenuto di una luce su una vostra miseria sempre perché le distrazioni partono quasi sempre dai vostri centri di interesse quindi vi danno luce sulle vostre miserie sempre siete degli orgogliosi gira e gira e gira le vostre distrazioni sono sempre vi richiamano sempre al fatto che siete orgogliosi solo che voi cacciate la distrazione e non prendete il messaggio della distrazione ma se voi prendete quella distrazione la spaccate fate uscire quel raggio di lucio che contiene e allora voi ragionate così a cosa stavo pensando perché pensavo a quello e vi accorgete mamma mia perché sono un orgoglioso e allora e allora prendete il frutto che avete colto dalla distrazione e lo presentate al signore signore vedi come sono vedi come sono siete degli egoisti gira 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 le distrazioni sono sempre tinte di egoismo voi le prendete le spaccate dentro c'è una luce la luce sul vostro egoismo e allora e allora avanti prendete sto egoismo lo presentate al signore signore vedi come sono egoista e la distrazione diventa un elemento costruttivo invece di essere elemento distruttivo la distrazione finisce per dare colore e calore alla vostra preghiera di silenzio può proprio essere un alimento della preghiera di silenzio e diventare uno strumento per comunicare più profondamente con Dio uno strumento di silenzio e diventare di silenzio e diventare un'imitare di silenzio per comunicare Grazie a tutti.